Every year the World Cheese Awards gathers the finest cheese makers, retailers... Non poteva mancare il formaggio sardo tra i vincitori del prestigioso premio World Cheese Awards, giunto alla sua 36esima edizione. Questa volta però, per i prodotti caseari sardi è stato un vero trionfo. L'isola ha conquistato ben 11 medaglie, di cui ben 6 assegnate al caseificio Antonio Garaudi Mandas. La competizione mondiale, che mette in concorrenza i formaggi di tutto il mondo, 5.000 le tipologie di prodotti presenti alla competizione del 2024, provenienti da 40 diverse nazioni, ha riconosciuto dunque la grande capacità dei nostri caseifici di proporre al mercato sapori diversificati, capaci di accontentare un po' tutti i palati. Il caseificio Garaudi ha ottenuto diversi premi, il Super Gold per il Cardureu, il pecorino semistagionato lavorato partendo dal caglio vegetale, il massimo livello dei riconoscimenti, la medaglia d'oro per il caprino Sugrabitu, realizzato con latte di capre allevate allo stato brado, l'argento per il pecorino Granduca di Mandas, per il formaggio vaccino semistagionato Sagontissa e infine per il pecorino stagionato il giunco. Medaglia di bronzo Assunuragi, formaggio pecorino da tavola, prodotto esclusivamente con latte di pecora fresco. Orgoglioso l'intero staff della famiglia Garaudi, casari dal 1880 che hanno tenuto a ringraziare tutti i collaboratori per questi importanti riconoscimenti. Le loro produzioni seguono una metodologia tradizionale, le forme vengono infatti affinate in antiche cantine e lavorate a mano senza conservanti o additivi. Un riconoscimento che va anche ai tanti allevatori, ancora legati per la maggior parte al sistema del pascolo brado. Il latte è infatti l'elemento base che determina il sapore del formaggio, greggi che si nutrono di erbe speziate della macchia mediterranea e il cui profumo si trasferisce inesorabilmente al latte che producono.